Di recente ci sarebbe stata un'aggressione di tipo omofobo sul tram 3 di Roma, quello per intenderci di colore verde. In particolare pensate che l'aggressione omofoba sul tram 3 ci sarebbe stata e diciamo così che un passeggioro avrebbe deciso di riprendere per intero la scena. Che cosa sarebbe accaduto? Adesso vi racconterò in maniera abbastanza sintetica ma efficace quello che sarebbe accaduto. Sarebbero arrivati degli insulti nei confronti di un ragazzo con ogni probabilità gay e omosessuale da parte di uno dei passeggeri del convoglio che lascia senza lavoro. Sarebbero tanti i piedi che sarebbero stati utilizzati e vi ricordo che in questa settimana si parla tanto di BDL Zanna, questo potrebbe essere stato diciamo così l'evento che avrebbe in qualche maniera scatenato da parte del personaggio, del passeggero, insulti di tipo omofobo nei confronti proprio del ragazzo in questione. Il video è stato caricato poi su Instagram, è diventato tirare sul web ed è un video anche abbastanza palese dove viene fuori comunque la carica di un determinato utente nei confronti di un altro, un essere umano come l'altro. Siamo tutti esseri umani, questo lo voglio far capire in questo video di oggi. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua, vedete il video per intero, iscrivetevi al canale con un tempo e commentate e un saluto di caro da Leonardo Donato e di Gaglia. Grazie.